Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata segnalandovi che prosegue la rassegna gastronomica Fiori d'Inverno, dedicata al radicchio rosso di Treviso e al variegato di Castelfranco IGP, curata dall'Umpli Treviso. Giunge alla sua 38esima edizione la tradizionale mostra del radicchio rosso di Mogliano Veneto. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre vi aspetta la mostra mercato del radicchio rosso di Treviso IGP e dei suoi derivati, oltre ad altri prodotti tipici. Ci saranno anche degustazioni offerte dagli organizzatori e lo spiedo gigante. Numerosi sono anche gli appuntamenti in programma per grandi e piccini, tra musica in piazza e laboratori natalizi, spettacoli e concerti. La Proloco Mogliano Veneto, inoltre, rinnova la consueta collaborazione con i ristoratori locali con uno speciale programma di menù da loro proposti. E proseguo segnalandovi che l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi invita domenica 17 dicembre all'ormai tradizionale mercatino Natale in Borgo, che si svolge nel cuore della città di Treviso e dove potrete trovare tante idee per i vostri regali. Ancora artigianato, creatività, sapori regionali e florovivaismo. Vi aspettiamo dunque numerosi a Treviso, in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale. L'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia domenica 17 dicembre a Treviso. Centro Medico San Michele e E-Pulse Center offrono un nuovo tipo di attività che unisce sport e prevenzione grazie ad un programma di attività a fatica controllata da svolgere in gruppo oppure durante lezioni personalizzate. E-Pulse Walking è un misto di Nordic Walking, esercizi di camminata e stretching con l'ausilio di bastoncini digitali in grado di monitorare il movimento e restituire report sui progressi. Sabato 16 dicembre, a partire dalle 10 per la giornata di Open Day, si potrà partecipare ad una lezione di prova lungo un itinerario di circa 3 chilometri, facile, lungo il fiume Sile e su un terreno sterrato. Si parte dal Centro Medico San Michele di Quarto Daltino. Nel 2001 la Torre di Pisa riaprì al pubblico dopo 11 anni di lavori. Terminati i lavori di consolidamento e raddrizzamento, il campanile aveva ridotto la sua pendenza di 44 centimetri. L'evento è stato sottolineato dal suono delle campane di Piazza dei Miracoli. La Torre di Pisa era stata chiusa il 7 gennaio 1990 e da allora, attraverso lunghi e complessi interventi, è stata messa in sicurezza. Uno studio ha certificato che l'antico campanile è in ottima salute e che grazie agli sforzi degli ultimi decenni la Torre Pendente si è raddrizzata di altri 4 centimetri da quel 2001. Compi ogni azione come fosse l'ultima della tua vita, Marco Aurelio. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione e la prossima puntata.